Buon pomeriggio a tutti, conferenza per le partite di Mister Liberani, iniziamo da Franco Esposito, Telecolore, Corriere dello Sport, Radio Bustola. Mister buonasera, volevo chiederle, lei ha detto dopo la partita di Milano che sarebbe stata la settimana a fare la formazione, questa settimana che cosa le ha detto e domani che squadra vedremo, se è molto diversa da quella di Milano. Intanto credo che abbiamo fatto una settimana piena e sicuramente la squadra ha fatto una buona settimana, abbiamo lavorato, abbiamo cercato di conoscerci meglio che sicuramente in questo periodo è fondamentale perché il tempo è poco e quindi bisogna fare più velocemente. È normale che abbiamo ancora delle incognite proprio di ruoli, in certe situazioni non abbiamo recuperato nessuno anche se sono sulla buona strada e quindi non potevamo sicuramente cambiare tantissimo. Qualche giocatore ha fatto una settimana intensa, ha dato dei segnali che è quello che insomma da parte mia era importante vedere. Questo non vuol dire che non ci sia possibilità e tempo per tutti proprio perché dal primo giorno che sono arrivato ho detto che era il giorno zero. Quindi la disponibilità, la volontà dei ragazzi per prendersi la maglietta, per essere dentro c'è tutti i giorni. Ogni settimana cercherò di fare la formazione che reputo in quel momento migliore. Questo non vuol dire avendo cinque cambi che chi subentra in corso della partita non può cambiare la partita, dare segnale all'allenatore, dare segnale a tutti. Quindi oggi non è una salernitana che può esimersi da giocare con otto, nove, dieci giocatori. Per poter fare qualcosa di positivo c'è bisogno di tutti quanti, dal primo all'ultimo, a prescindere dal minutaggio che avrà a disposizione. No, Fazio no, Pirola no, Pierozzi no e quindi più o meno qualcuno ha recuperato, qualcuno che era uscito magari malconcio ha avuto una settimana in più di lavoro e quindi sicuramente qualcuno ha lavorato un pochino di più. Questo era il concetto. No, Fazio ancora? No, non ho detto che non è convocato. Ho detto che non ha recuperato appieno. Questo era. Io parlo di totalità dei giocatori. Il mattino? No, no. Il mattino Tallarino? Figuri. Mister, buonasera, ben trovato. La composizione della difesa che lei di solito ha schierato a quattro ma che poi nella sua carriera ma che allo stadio Meazza era tre più diciamo giocatori larghi. Dipende soprattutto in questo momento dalle caratteristiche dei suoi giocatori o dalla contingenza cioè proprio da quello che ha appena finito di dire. Non tutti sono in condizione di poterci dare una mano e quindi pur volendo schierare una coppia magari più affidabile sulla carta non ci vuole tanto per capire quale potrebbe essere anche in base al pedigree, alla carriera, alle partite giocate. Non posso farlo perché non tutti sono in condizione di reggere 90 minuti e quindi rischierei di bruciarmi un cambio. Cioè questo è il ragionamento che sta facendo condizioni fisiche e caratteristiche tattiche, tecniche, non le consentono di giocare a quattro per esempio. Allora io credo che forse, anzi sicuramente no, voi avete conosciuto questa rosa molto più di me e quindi sapete anche le difficoltà e le assenze che hanno continuato in questo percorso. Noi siamo andati a Milano che avevamo di ruolo tre giocatori che credo non avessero mai giocato insieme. Pasalidis, Boateng, Pellegrino. Di cui Boateng che ringraziamo credo prima di me per le partite e la disponibilità e lo stesso vale per me ma è un giocatore che per emergenza ha dovuto giocare senza allenarsi e alla terza partita cioè Milano giustamente ha avuto un problema. Oggi ci ritroviamo ancora con la disponibilità di giocatori che non hanno giocato mai insieme e andare a lavorare su una linea difensiva magari con concetti un pochino diversi, con situazioni diverse e bisogna farlo nel pieno della possibilità di averli a disposizione tutti e mettere dentro piano piano qualche idea diversa. Io credo che oggi se ci concentriamo sui moduli o sui numeri non è la strategia che può portare qualcosa alla Salernitana. Io credo che sia giusto concentrarci sull'aggressività, sulla fame, sulla voglia di arrivare a un risultato, sul sacrificarsi, sul correre per un compagno, per fare una corsa in più per il compagno. Credo che a differenza di questo noi dobbiamo pensare a questo. Vincere i duelli individuali con gli avversari perché dobbiamo avere qualcosa in più degli avversari sotto questo profilo. Poi piano piano ci stiamo mettendo delle situazioni tecnico-tattiche, ma oggi quello che mi vorrei concentrare soprattutto è più una questione di diventare squadra, di essere uniti e di voler sacrificarsi per il compagno. Credo che questo sia la prima che dobbiamo trovare. Poi piano piano troveremo anche gli aggiustamenti tecnico-tattici. Avagliano, Salernitana News. Buonasera, mister. Proprio a tal proposito è stata una settimana questa, credo, piuttosto difficile perché la Salernitana sul fondo c'era già in classifica, ma credo abbia toccato il fondo dell'inconsistenza proprio a San Siro. È stata una partita che i tifosi non hanno digerito, tanto è vero che ha provocato la visita della dirigenza, la visita di Petrucci, immagino anche una sua strigliata. Reputa che questa squadra dopo la non prestazione di Milano abbia davvero la possibilità di ritrovare le forze, al di là dei numeri, come ha detto lei dal punto di vista mentale, psicologico. È una squadra pronta a far sì che queste 13 partite che mancano non siano una lenta agonia, ma una voglia di risalire, di provarci quantomeno. Che cosa ci dice della testa dei calciatori? Grazie. Io credo che loro hanno fatto, come ti dicevo prima, una buona settimana. L'ho visti vogliosi, attenti, concentrati. Poi è normale che per me ancora di più domani il verdetto del campo per dare poi delle sensazioni definitivi ce lo darà sempre la partita. L'allenamento può darti qualcosa, poi la partita ti dà le risposte vere, diciamo quelle concrete. Quindi domani vedremo se questo che dici tu è arrivato, se siamo a che livello possiamo essere. La partita con l'Inter in un momento in cui eravamo noi è evidente che poteva alzare e creare ancora più grandi limiti. L'Inter oggi è una squadra ingiocabile e quindi succede per tante squadre, figuriamoci per noi che veniamo da un momento molto molto negativo. Oggi la Salernitana non può pensare né a quello che è stato e né a quello che sarà, questo ho detto ai ragazzi. Noi siamo in una condizione che dobbiamo pensare che il Monza è l'unica partita che abbiamo e cercare di tirare fuori il massimo da questa. Non abbiamo le possibilità di fare pensieri a medio-lungo termine o tabelle. Questa squadra deve pensare unicamente alla partita di domani e cercare di trovare le soluzioni per vincerla. Punto. Non possiamo fare altro. Ogni partita sarà così. 13 partite per tanti possono sembrare poche. Per me è un terzo del campionato. Quindi non voglio assolutissimamente pensare o sentire che i miei giocatori possano abdicare e fare un'agonia per un terzo del campionato. Perché un terzo del campionato si possono prendere tanti punti. Quindi questo è il pensiero mio. Cerco di trasmetterlo tutti i giorni alla squadra e domani vedremo a che punto saremo di questo pensiero. Guerriero, Gazzetta dello Sport. Mister, buonasera. Le domande sono tante. Provo a sintetizzare il tutto. Qualcosa l'ho già detto in questa risposta. Di fatto con il Monza è l'ultimo appello per la Salernitana. Cioè solo una vittoria può tenere accesa quella fiammella di una speranza che in questo momento obiettivamente è minima visto il ritardo in classifica. L'altra domanda di A e Colibali saranno disponibili oppure no per questa partita? Allora se carichiamo ogni volta la Salernitana credo che è un po' di partite che arriva alla partita pensando che sia l'ultima. E noi questo abbiamo visto che non ci aiuta probabilmente a questa squadra. Io credo che sia una partita importante, fondamentale per una sensazione. Quella che hai detto tu, cioè riaccendere qualcosa che in questo momento non è acceso. Noi dobbiamo cercare di andare a prenderci qualcosa dovunque e sicuramente la vittoria è la situazione, la medicina migliore che possa riaccendere a prescindere il risultato finale della salvezza. Come ho detto prima non possiamo arrivare così tanto, non siamo a quel livello. Noi possiamo riaccendere. Riaccendere vuol dire dare entusiasmo ai ragazzi che non vincendo mai paradossalmente mentalmente si è sempre negativo. Mentre un episodio positivo è una vittoria a prescindere poi dai punti che possono essere ancora tanti distanti però ti può dare qualcosa in più. Ecco noi dobbiamo trovare quell'episodio in questa partita che ci possa riaccendere dentro. Ghiacoli i bali sono disponibili. Sabatino Romeo, la città e chiudiamo. Mister, buonasera. Le chiedo, come diceva prima anche il collega, è stata comunque una settimana importante in cui anche attraverso le dichiarazioni sia del vicepresidente Petrucci che dell'amministratore delegato Maurizio Milan è passato forte il messaggio anche di assecondarla in quella che è stata la decisione del ritiro ma anche di ribadirle questa fiducia al netto poi comunque del debutto che è stato amaro venerdì scorso. Quindi un messaggio su questo se lei ha sentito anche nel faccia a faccia che avete avuto con la dirigenza e anche immagino telefonicamente con il direttore generale Sabatini questa fiducia che sarà fondamentale per le prossime sfide e poi domani parlava di scintilla avrà comunque uno stadio che nonostante la difficoltà si avvicinerà ai 20.000 spettatori ed è per questo appunto anche un messaggio. Immagino che la Reghi sarà fondamentale domani anche nel dover capire i momenti di difficoltà e far sentire il suo appoggio in una partita che come diceva lei è determinante per la stagione. Grazie. Allora sì io il giorno che sono arrivato qui no se fossi stato tra virgolette no un allenatore che voleva essere un pochino più furbo un pochino più attento credo che il 90 per cento degli allenatori il subentro prima di arrivare in quattro giorni a Milano forse quasi nessuno avrebbe accettato. Io non mi posso fermare al pensiero dell'Inter e quindi questo è stato detto con la proprietà col direttore che era la società mi ha ribadito la fiducia ma questo credo non c'era nemmeno bisogno di dirlo sono arrivato a 14 partite dalla fine non credo che ci sia da dirlo. C'è da lavorare sicuramente tanto tutti i giorni e la decisione del ritiro come ho detto è proprio perché il tempo è poco e stare insieme sicuramente ci aiuta a conoscerci di più che in questo momento ha un valore molto alto delle persone più che delle qualità e quello che ho cercato con i ragazzi è fargli capire che persona sono non un allenatore. L'allenatore può accettare l'errore meno è la persona io ho delle idee vado diretto non ci giro intorno cerco di andare ad attoccare qualcosa della persona più che del calciatore ed è quello che sto cercando di fare. I ragazzi hanno recepito c'è unione ci si parla ci si confronta il ritiro serve anche a questo in questi momenti e quindi questo è. Mi sono perso la terza? Tifosi è forse la domanda più semplice e più facile per me dal primo giorno l'ho sentito insomma questa questa passione questo amore verso questi colori credo che loro sono sempre stati vicini sia dentro e fuori casa ancora oggi tuttora con le presenze che saranno alla Reghi è fondamentale noi dobbiamo dare quella scintilla anche a loro perché se i domani sono 20 mila non oso immaginare se dovessimo fare una vittoria cosa può succedere nelle prossime partite. Credo che anche loro abbiano bisogno però più da parte nostra qualcosa a loro. Loro come sempre sono stati straordinari. Ottimissima domanda chiudiamo. forse perché non sono stato attento. Lei due cose mi ha colpito lei ha detto oggi dobbiamo diventare squadra che a 13 giornate dalla fine del campionato un allenatore che dice questo adesso è arrivato da una settimana insomma significa che fin qui diciamo i suoi predecessori hanno fatto nulla per far diventare squadra questo gruppo. la seconda cosa se non ricordo male è questo che vorrei capire l'amministratore delegato della serenitana qualche giorno fa credo di citare testualmente ha detto abbiamo condiviso con l'allenatore delle decisioni che vi saranno rese note nei prossimi giorni non alludeva alle multe perché ne aveva già parlato senza fare i nomi. volevo sapere se ho capito bene io quali decisioni erano state condivise con l'allenatore e il discorso della squadra. credo le decisioni siano quelle del ritiro non credo altre ma non ci sono altre decisioni sotto quel profilo no non intendevo è normale che io non posso pensare a quanto era una squadra nel periodo Sosa o nel periodo Inzaghi. io parlo sempre del mio periodo è normale che arrivo io dieci giorni oggi sono in questo periodo sicuramente c'è stato un confronto e secondo me la squadra principalmente aveva delle difficoltà e questo l'ho viste vedendo le partite di avere uno scollamento di essere poco squadra intendevo con la voglia di sacrificarsi per un compagno fare una corsa in più una lamentela in meno cioè essere meno cioè cercare meno alibi e cercare meno sempre un col un colpevole cioè io credo che questo che deve passare oggi è che se noi siamo a questo livello la colpa è di tutti se si retrocede non retrocede solo chi gioca o chi gioca meno è salvo o chi gioca meno non non ha la stessa colpa oggi su questa barca ci siamo tutti e nella negatività ci rimane tutti quanti era questo il pensiero che deve passare e io credo che questa si può anche retrocedere nella vita ma si deve fare dignitosamente noi ad oggi dobbiamo mandare intanto questo messaggio perché il calcio è crudele e stupendo non si può mai sapere 13 partite come ho detto è un terzo del campionato abbiamo tanti scontri diretti partiamo dal primo vediamo che succede sabato poi può cambiare tanto è evidente che oggi dipende da noi non possiamo cercare aiuto all'esterno dobbiamo farlo noi all'interno noi gruppo squadra noi dobbiamo farlo perché la società non fa mancare niente a nessuno i tifosi non fanno mancare niente a nessuno quindi siamo noi che siamo in debito e dobbiamo fare qualcosa domani è un'altra possibilità che abbiamo e dobbiamo cercare di fare il massimo poi alla fine tireremo la somma sono stati più bravi gli daremo la mano siamo stati più bravi ci mettiamo lì mattone dopo mattone vediamo che succede noi molto riposizione 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 Grazie.